Un ampliamento non indifferente che va a potenziare l'offerta per i cittadini e i turisti che abitano o soggiorno a Sarnico. Sono infatti cominciati i lavori per l'ampliamento del bacino idrico Moscatello, il bacino storico del paese, che vanno ad aumentare la portata di acqua che serve una buona percentuale di famiglie. Teniamo conto che sono oltre 3.000 famiglie, non tutti dipendono ovviamente da questo bacino, però questo è un bacino importante, è il bacino di accumulo per altri bacini, quindi sicuramente questo è un intervento che doveva essere fatto nel tempo e noi ci siamo presi carico di fare questo. È un intervento importante, è un intervento che va nella direzione dei servizi al cittadino. Un'opera dal costo totale di 400.000 euro che l'amministrazione si è presa a carico e finanziata dall'ente gestore del bacino. Le motivazioni sono per dare comunque maggiore sicurezza al rifornimento idrico. Questa amministrazione ha già realizzato altri 4 bacini oltre questo, però è necessario che questo, che il vecchio bacino storico, venga ulteriormente riqualificato, venga ristrutturato e nell'occasione creiamo una nuova vasca per l'accumulo dell'acqua. Questo farà sì che di problemi d'acqua non ce ne sono mai stati ma comunque non ce ne saranno neanche nel futuro. I lavori sono già cominciati, quanto dureranno e quanto ammontano? I lavori sono già iniziati, presumo che compatibilmente con le condizioni del tempo dureranno un 3 o 4 mesi, l'importo dei lavori è di circa 400.000 euro. Sono sostenuti dal gestore del servizio.